Quindi, allora, possiamo iniziare? Allora, quindi, benvenuto Eugenio in questo spazietto del web che ho io. Grazie. Allora, parleremo in sacco di cose, abbiamo già delle domande accumulate fuori, prima della live, quindi questa è la prima volta che succede. Però io vorrei iniziare con la domanda di Rito, cioè come è nata la passione per l'informatica e più o meno quando quindi ti sei avvicinato a questo. Allora, intanto grazie dell'invito. La passione per l'informatica è nata inconsapevolmente, nel senso che è sempre piaciuto giocare, ma quella non è passione per l'informatica, è sempre stato vicino a videogiochi, computer e tutto questo. Alle superiori ho fatto una cosa che non c'entrava nulla con l'informatica, perché ho studiato geometri, perché fondamentalmente ero una capra a scuola e quindi ho fatto la scuola che in quel momento mi richiedeva meno impegno possibile. Ma quando sono arrivato alla fine ho detto, ok, cosa mi piacerebbe fare adesso? E ripensando un po' ho detto, mi piacerebbe fare informatica fondamentalmente perché mi sarebbe sempre piaciuto riuscire a mettere in pratica delle cose che avevo in testa, nel senso che tutti noi abbiamo idee, cose che vogliamo provare a fare e con l'informatica avevo i mezzi per farlo, quindi ho preso e ho iniziato a studiare informatica da lì. Però non c'avevo certezze che fosse, insomma, la cosa che sicuramente mi piaceva, era una scommessa. potenzialmente poterà piacermi e poi ho scoperto che mi piaceva davvero e tanto. È andata bene allora, ottimo. Sì, alla fine è andata bene. Io ovviamente questa volta ho fatto una piccola gaff, cioè che essendo che siamo comunque amici di Eugenio, non ho pensato a farvi la presentazione, mi direi che ora ti chiederei di presentarti. Pardon, perdonami. Non ci ho pensato nemmeno io. Allora, Eugenio Paluello, sono co-founder di Toket, che è una startup che si occupa di ticket su blockchain per eventi dal vivo, quando si ripotrà finalmente tornare a fare eventi dal vivo, e per eventi online con piattaforma di streaming annessa e a breve anche eventi ibridi. Gestisco insieme a Alessandro e Luca il Pointer Podcast, che è un podcast in cui parliamo di innovazione e tecnologia, e sempre insieme a loro e con Remo, gestiamo anche Super Heroes Valley, che è una community nata da poco meno di un anno, basata a Pisa, ma aperta, essendo remota, aperta a tutta Italia e il mondo, che ha lo scopo di mettere in contatto i ragazzi dell'università, o comunque chiunque voglia entrare in una big tech, con le big tech, cercando di dare un po' delle informazioni su come entrare e qualche nozione su come si fa per entrare. Ottimo, ottimo. Poi chiedo a questo punto, invece che a te così noi si chiacchierà, Alessandro scrivimi su Telegram i link di Pointer Podcast e dell'altra, così io li metto, perché se li mettete voi poi rimangono oscurati, quindi passameli in privato e io li aggiungo in live ogni tot. Ottimo, ottimo. Quindi ok, quindi superiori questo, poi l'università ti sei però subito, cioè hai capito che comunque la scelta è stata buona, ti hai fatto sia triennale che magistrale. Allora, quindi triennale come è stata l'esperienza? E soprattutto ingegneria e informatica, ti hai scelto informatica, informatica, se non erro. Ok, per una questione puramente di, vai vai, cioè nel senso come mai anche la scelta? In realtà perché mi piaceva più, quando l'ho scelta non è che conoscevo troppo bene né informatica né ingegneria e informatica. Andando ad occhio sul programma, mi sembrava che l'informatica fosse più rivolta a quello che piaceva a me, quindi a me piaceva programmare, ho detto ok, andiamo a informatica, ingegneria e informatica, c'era molto più matematica, ho detto vabbè, magari evitiamo, non so proprio un drago a matematica, quindi cerchiamo ad andare sull'informatica. Io ho fatto la triennale a Perugia, perché io sono di Spoleto, in Umbria, e quindi era la più vicina, e in generale, poi guardando indietro mi sono trovato bene, anche se alla fine il percorso non è stato proprio corto, nel senso per fare la triennale, ci ho messo circa cinque anni. Il primo anno non è stato proprio semplice, nel senso quando ti ritrovi catapultato all'università cambia tutto rispetto alle superiori. Ci stanno persone che si trovano benissimo e persone che invece sentono un po' l'impatto. Io nel primo anno ho dato circa un esame e fondamentalmente non è stato facile ingranare con gli esami, però da subito ho capito che comunque piaceva quello che facevo. Quindi non ho mai, nemmeno messo in dubbio il fatto di ok, adesso posso cambiare università perché non sto facendo gli esami. Quello che ho fatto è stato provare, riprovare, cercare di fare gli esami, rifarli cinque, sei, sette volte, e alla fine mi sono trovato bene. Era più che altro un problema di riuscire a organizzarsi, soprattutto per me che ho passato le superiori studiando poco, a quel punto era arrivato il momento di mettersi a studiare veramente e di non arrivare all'ultimo, studiare un mese dall'esame in materie che non avevo mai viste in vita mia. Vabbè, diciamo, piccole cose che si imparano solo facendo, perché poi me l'hanno raccontato in tanti prima di arrivare all'università, ma non è servito. Però sì, triennale è lì e alla fine mi sono divertito un sacco. Ho tolto il primo anno in cui è andato un po' così, poi ho capito che mi piaceva davvero la parte informatica, gli esami hanno cominciato ad andare bene, mi sono trovato, comunque essendo un'università vicina, ho trovato un gruppo di amici che veniva dalla mia stessa città con cui studiavamo. Il primo anno l'ho fatto da pendolare e anche quella è stata una scelta un po' infelice, nel senso che io facevo sport, mi sarebbe piaciuto continuare a fare sport e quindi ho iniziato facendo il pendolare, quindi tipo la mattina sveglia alle 6, la sera allenamento fino alle 11 e poi il giorno dell'università. Era un delirio, però quindi ecco, dal secondo anno mi sono spostato con casa vicino all'università e quello ha permesso anche di creare un gruppo con cui studiare e quella secondo me è stata un po' la svolta e è una cosa che un po' consiglierei a tutti quelli che si approcciano a questa università. Cioè la cosa importante e fondamentale è il gruppo di persone con cui, che riesci a creare e con cui studi. Quello secondo me è veramente la cosa che ti permette di essere veloce. Ottimo. Quindi consiglio numero uno. Consiglio numero uno, intanto quindi direi il gruppo di studio tanto fondamentale. Un altro consiglio che daresti è sempre appunto chi inizierà o chi è magari al primo anno e quindi è proprio in quella fase in cui, ok, non sta andando bene. Ma capite se vi piace quello che fate, nel senso che il non passare l'esame non è un sintomo di non mi piace quello che faccio, ma se capite che comunque c'è interesse in almeno una parte delle materie, non per forza in tutte, perché poi è normale trovare esami o materie che interessano più o meno, ma se c'è interesse continuate andando avanti, perché alla fine gli esami si passano, non sono impossibili e quindi questo secondo me è il secondo consiglio. Non vi basate sugli esami non passati. Vero, vero. Beh, è importante sbatterci sempre la testa più volte. Assolutamente. Tante a volte. Tante a volte, sì, sì. Ok, quindi poi finita la triennale ti sei spostato invece per la magistrale. quindi come mai non hai continuato lì, ad esempio? Allora, intanto ho fatto triennale, una delle parti, insomma, di università che mi è piaciuta di più, soprattutto della triennale, è stata la tesi che ho fatto, perché ecco, c'è ancora una domanda che cosa hai fatto come tesi triennale. Sì, sì, ci arrivavo, ci arrivavo. Arriviamo, Ale, grazie per il suggerimento. E no, è stata una delle cose che mi è piaciuta di più. ho fatto una tesi con con un professor, il professor Bistarelli che era sulla blockchain. Lo scopo era quello di andare a tracciare le transazioni. In quel momento non so se ve lo ricordate, il virus WannaCry che era quello che praticamente andava a criptare tutti i dati dei computer e chiedevano il riscatto in bitcoin. La diciamo, lo scopo della tesi era quello di andare a tracciare tutte queste transazioni e cercare in qualche modo di capire chi fossero questi malintenzionati che andavano a criptare tutto quanto. Intanto è stata una cosa che per lì mi ha messo in gioco completamente perché è una tecnologia di cui non avevo idea, non conoscevo per nulla su un progetto che era grossino perché comunque come un po' tutte le tesi triennali stanno diciamo nel cerchio di un gruppo di ricerca e quindi magari era un primo tassello su cui poi si appoggiavano tante altre tesi e quindi c'era anche un po' la pressione di dire ok se questo non lo finisco dentro questa data quest'altro non può lavorare e quindi è stato figo per due motivi uno perché poi la tecnologia me la so la blockchain me la so portata dietro per tanti anni e mi è piaciuta un sacco seconda cosa perché è stato mettersi alla prova su un progetto un po' più grande di quello che avevo visto fino a quel momento chiaro chiaro sì perché poi la blockchain pian piano ci ritorniamo è rimasta ovviamente come come tecnologia che ti sei portato dietro per poi anche farci il tuo lavoro praticamente è rimasta abbastanza attaccata e poi perché mi sono spostato a Pisa io da non pisano da non toscano ho sempre visto Pisa hanno sempre sentito parlare come un'università top per informatica e quindi ho detto boh la trenare l'ho fatta l'ambiente a Perugia lo conosco mi piaceva pure perché mi trovo bene ho gli amici e tutto quanto però ho detto c'è questa opportunità proviamo e quindi mi sono spostato a Pisa e senza pensarci troppo insomma è partito è andato l'impatto lì è stato bello perché comunque è una città comunque piccolissima molto piccola Pisa e però c'ha un'università che è molto molto grande quindi c'è un sacco di gente c'è un sacco di community che è una cosa che ho scoperto tardissimo ma che ho scoperto che mi piacciono un sacco e c'è tanto movimento e però la prima cosa che mi viene in mente quando penso a Pisa è tipo il fatto che ti sposti e non conosci nessuno e quindi passi i primi giorni cercando di ok cerchiamo di parlare con quello con quell'altro e essendo una persona non troppo diciamo estroversa era comunque complicato cercare di trovare qualcuno anche solo per attaccare il bottone e iniziare a parlare fino a che poi dopo un giorno sono andato a prendere un caffè con il ragazzo che chiedeva che cosa ho fatto come testo triennale con Ale e e niente questa sorella l'avete già sentito nella sua live però fondamentalmente poi lì chiacchierando un po' su cosa avevamo fatto come testo triennale avevamo fatto la stessa identica cosa abbiamo iniziato a chiacchierare di questo e poi sono nati duemila altre cose che poi racconteremo però ok ok ottimo sì in effetti Pisa è famoso per essere tipo città campus no perché tanto Pisa quello è piena di studenti e parte ora magari prima o poi ritornerà a esserlo però e quindi poi la magistrale praticamente cioè come ti è sembrata sempre come te l'ha aspettavi ecco oppure magari un po' ti aspettavi qualcosa di meglio qualcosa cioè di diverso non so allora il mio feedback sulla magistrale che ho fatto è super positivo perché oltre alla magistrale in sé per sé ho vissuto tutto il contorno cosa che magari nella triennale mi ero un po' perso qui ci ho messo anche qui un po' più di due anni circa due anni e mezzo ma ho perso il tempo in più molto volentieri perché inizialmente con Alessandro con cui abbiamo iniziato a fare un botto di progetti e c'è anche un ambiente che ti permette di metterti alla prova ad esempio seguendo un corso abbiamo portato quella che poi è stata la nostra prima idea di startup cioè BlockLock che era una serratura smart su blockchain ci ha permesso abbiamo fatto una competizione interna siamo andati a fare un un hackathon in un'altra università siamo stati fuori tre giorni ci siamo divertiti un botto e abbiamo perso l'hackathon siamo tornati a casa abbiamo spinti da quello abbiamo continuato a lavorare sull'idea abbiamo fatto poi l'abbiamo portato al Contamination Lab e quella è un'altra storia ma oltre a quello abbiamo fatto veramente tanto nel senso ci siamo goduti più o meno anche le varie community che c'erano in giro anche il GDG dove l'abbiamo conosciuto e progetti vari tipo sotto esami noi ci prendevamo ci siamo presi una settimana per cercare di sviluppare un bot che facesse arbitraggio sulle criptovalute per le varie sui vari exchange una cosa assurda che stavamo a tre settimane dall'esame e una sera abbiamo ci sono illuminati gli occhi perché abbiamo avuto quell'idea e ci abbiamo perso una settimana a tre settimane dall'esame quindi abbiamo ho vissuto veramente tante altre cose oltre all'università poi l'università è fighissima nel senso che la mia opinione è i professori sono tutti bravissimi le materie sono interessanti però ecco di Pisa più che l'università a me è piaciuto più tutto il contorno quindi la consiglio sempre a tutti però ecco è più il contorno dell'università in sé ottimo mi fa piacere che qualcuno parli bene nell'università visto che io non ne parlo mai tanto bene però questa è un'altra storia quindi Olissi ci dice molto interessante la tua tesi anche Michele Spagnuolo Federico Maggi e Stefano Zenero hanno fatto una cosa simile nel 2014 con Bitloading Bitloading Extracting Intelligence from the Bitcoin Network loro si sono focalizzati su Silk Road ok ok gli anni non mi ricordo quali erano oddio quanti anni sono passati il 2021 forse era 2018 2017 quindi forse più più tardi rispetto al lavoro loro però alle 10.3 di notte in corso della matematica per testare l'ether oddio anche questa è bellissima non me l'avevo ricordata perché quando abbiamo portato quel progetto a quel corso interno dovevamo presentare il progetto per farlo funzionare ci serviva ci serviva internet banalmente quindi tipo alle 3 di notte raspberry in mano e scatole dietro di noi a matematica cercando di attaccare le ethernet in giro per vedere se funzionava o non funzionava è stato fantastico poi come minimo in queste situazioni è probabile che noi vi incontravamo in giro mentre stavamo facendo degli eventi lì al Fibonacci penso che sarebbe stato divertente quindi finita comunque quindi finita la magistrale allora no anzi visto che già so che non è che è finita nel mentre la magistrale comunque ci sono state altre altri rami che si sono iniziati un pochettino a intraprendere ad aprire altre altre strade di cui una appunto è quella che accennavi il Contamination Lab e quindi esempio appunto partendo da questo che cos'è e perché io ti ho un po' meglio conosciuto grazie a questa attività praticamente quindi se vuoi comunque parlarne un po' che cos'è e che cosa potrebbe essere cioè per cosa potrebbe essere utile per chi magari sta facendo il percorso appunto dell'università ok questa è un'altra cosa per cui parlo sempre benissimo dell'università di Pisa perché c'è questo corso del Contamination Lab che è un corso gratuito che ha come scopo semplicemente quello di dare delle informazioni di base generali agli studenti su come si fa startup cos'è una startup e cosa ti servirà nel futuro per fare startup ok non so se ti ho perso ecco sì ci eravamo persi non so se forse la mia connessione scusa no no ok questo è quello che fa il Contamination Lab quindi fondamentalmente vai dura qualche mese trovi un sacco di ospiti da professori a startup perché ti parlano della loro esperienza ti parlano di quello che ti potrà servire per per intraprendere questo percorso che prima di fare quel corso sembra una cosa inarrivabile fatto quel corso dici ok è fattibile possiamo provarci è figo perché è pieno di altra gente che ha quello come obiettivo quindi fa un sacco di network c'è una competizione finale con dei premi molto fichi e insomma l'ambiente è bello quello che abbiamo fatto è stato prendere la nostra idea che era una serratura smart su blockchain e portarlo come progetto abbiamo seguito tutti i vari corsi tutto tutto il percorso insomma del Contamination Lab e la prima competizione l'abbiamo persa anche quella abbiamo continuato e verso diciamo la competizione finale eravamo super carichi e quella l'abbiamo vinta e quella è stata un'esperienza molto figa ma un'altra cosa importante che c'è stata durante il Contamination Lab è che abbiamo conosciuto l'altro matto con cui adesso sto sto continuando Toket che è Nicola May che anche lui è venuto lì con da solo con un'idea iniziale che era l'idea di Toket e con lo scopo solo di venire lì fare network e cercare qualcuno da con cui portare avanti l'idea la cosa iniziale è stata bellissima perché tipo il percorso del Contamination Lab è diviso in due lui è arrivato nella seconda metà perché l'ha saputo tardi e tipo seconda fila io e Alessandro primo giorno tipo a tre posti da noi si siede Nicola e in quel giorno tanto bene chiedevano di salire sul palco e parlare dell'idea in tutto il primo corso la prima metà del corso ci hanno bombardato dicendo parlate della vostra idea perché nessuno ve la ruba è una cosa normale avete feedback nessuno vi ruberà l'idea Nicola era arrivato quel giorno era terrorizzato che qualcuno gli rubasse l'idea sale sul palco l'idea era carina era un sistema per scambiare biglietti per concerti io e Alessandro parlottiamo lui ci vede terrorizzato che noi potessimo fregare l'idea perché eravamo due informatici quindi ci ci aggancia iniziamo a parlare parliamo per dei mesi e lì decidiamo di proseguire non solo con Block Clock inizialmente perché da persone sceme pensavamo che fare due start up era fattibile e possibile ma con Block Clock e Togget e quindi niente il percorso del Contrafinition Lab si finisce con questa competizione noi andiamo sia con Togget con tutti e tre insieme sia con Block Clock arriviamo insomma tra i primi due e ci facciamo anche un bel viaggetto in Silicon Valley che è stata anche quella un'esperienza fantastica ok tra l'altro anche quest'anno il Contrafinition Lab ha dato un viaggetto in Silicon Valley quindi se c'è qualche studente di Pisa interessato al mondo start up per l'anno prossimo vi consiglio di iscrivervi ok ottimo quindi in pratica a questo punto durante la magistrale ti sei avvicinato alle start up hai iniziato questo progetto quindi di chiamiamola imprenditoria si si può dire ok con appunto Ale e Nicola poi nel frattempo si sono incastrate anche altre altre cose vai io non faccio spoiler allora intanto sei incastrato che grazie Ale ho conosciuto anche Luca Corbucci e insieme abbiamo tirato sul Pointer Podcast dico insieme e non è vero nel senso che il Pointer Podcast è nato grazie a Luca perché io e Alessandro non l'avremmo mai fatto Luca se ci ha martellato per circa due mesi probabilmente dicendo dai facciamo sto podcast dai facciamo sto podcast tanto parliamo comunque di queste cose quindi parliamone dietro al microfono siamo partiti una sera prendendo una pizza andando andando lunghi per o fino a tre quattro di notte per tirare tutta l'infrastruttura e siamo partiti e da lì è nato il Pointer Podcast pensavamo durasse un paio di mesi perché in realtà ancora mi ricordo tipo la prima puntata del disagio davanti al microfono quando cioè io non so se tu hai vissuta questa cosa perché tu comunque eri abituata a parlare su un palco però è diverso sicuramente perché sul palco comunque se non c'è nessuno ti siedi e stai zitto punto o vedi comunque il feedback delle persone se inizi a partire in cose che non si capisce vedi le facce confuse invece io ho trovato la difficoltà iniziale a parte che non sai chi hai davanti se una persona che già ne sa che non ne sa niente una persona che magari cioè che annoi non annoi è complessissimo e voi secondo me è anche più complesso di questo delle live su Twitch perché registrate e poi mettete in line quindi cioè ci sono due momenti diversi e quindi secondo me è anche un pochettino più complesso ma sì non vedi non c'è il feedback in tempo reale delle persone a differenza del palco perché non vedi se gli annoi se dici cazzate perché poi quello è un altro motivo per cui io personalmente non volevo partire perché fai un podcast o una qualsiasi altra o le live su Twitch come fai tu ti espone anche alle possibili cazzate che uno dice perché ti assicuro che ne ho dette sicuramente io facendo il podcast quindi e quindi poi tra l'altro quei due non non stanno mai buoni perché non potevamo partire solo col podcast poi dopo hanno rilanciato ok adesso facciamo anche le dirette sui social e io volevo morire ogni volta che facevano live su su Instagram però poi alla lunga è stato ripagate sì è divertentissimo anche quello poi non non solo quello e quindi praticamente altra altro come dire momento da sottolineare è uscire dalle zone di comfort e se qualcuno prova a buttarvi in qualcosa accettate chiaramente non proprio qualsiasi cosa però buttatevi è una roba che cerco di far passare spero spero bene con un messaggio abbastanza chiaro che ad esempio io faccio tante cose non ho ancora finito l'università però sento che tutte le lo vedo come un castello i vari blocchettini vanno a creare un qualcosa che poi ci identifica ci sentiamo anche a nostro agio io grazie a tutti questi cassettini scatoline blocchettini quello che è mi sento soddisfatta comunque di quello che sto facendo e di chi sono è importante questo però chiaro io vivo sempre sul pezzo del anzi sul filo di rasoglio se accetto pure quello probabilmente mi conviene che non dormo più però ecco buttarsi no vai scusa vai vai no dico che però quella è la cosa giusta uno deve vivere in quel modo sapendo che non può accettare nient'altro ma poi continuando ad accettare cose anche perché sì si rimane sempre belli attivi non ci si annoia mai sì sì assolutamente quindi questo be a yes man poi i rami secchi cascono da soli esatto tra l'altro se poi ti circondi di persone come nel caso nel caso mio ho avuto la fortuna incontra Alessandro Nicola e Luca non è facile trovare persone con cui ti trovi a lavorare bene nel momento in cui le trovi a quel punto accetti qualsiasi cosa ti propongano e loro tutti e tre propongono una cosa ogni troppo poco tempo quindi ogni settimana ogni settimana ci troviamo ogni due settimane a fare una call su ok proviamo questo nuovo progetto iniziamo a buttare giù le specifiche vediamo se c'ha senso e vediamo se riusciamo a portarla avanti e alla fine le ore del sonno si possono ridurre sì quindi ad esempio una cosa che mi farebbe cioè che secondo me è una massima che può uscire anche da questa cosa è circondatevi di persone come dire proattive interessanti ora magari io non è che sono proprio la persona più interessante di questo mondo però persone che vivono sulla vostra stessa lunghezza d'onda ecco questo sì infatti quando ci siamo conosciuti io con Eugenio Alessandro Nicola subito ci siamo trovati e abbiamo detto ok e tuttora comunque nonostante che non ci vediamo fisicamente da mille anni una vita esatto comunque ogni tanto ci sentiamo ci ricontattiamo comunque ho avuto il piacere appunto di ospitarare Ale ora anche perché li conosco so che le loro stuole sono interessanti e mi fa piacere condividere con voi con tutti proprio perché sono cioè una cosa che ho investito proprio del tempo è creare queste connessioni quindi avere un network anche di persone che in primis ti tengono come dire in ti tengono attivo ti tengono comunque in un ambiente di attivo di idee di novità e che quindi il momento in cui anche uno ad esempio se sta facendo l'università sta passando anche periodi stressanti dovuti esami bla 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 avere comunque gente intorno proattiva che ti propone idee o anche magari non ti propone idee ma semplicemente ti dice andiamo a questo evento seguiamo questa cosa proviamo questo e quindi a quel punto il tempo è ovviamente più ristretto secondo me è uno di quei valori che io all'inizio dell'università ad esempio cioè una cosa non mi è successa a me e me la sono cercata con la da me si sono cercata con la zeppetta ma sono andata proprio a cercare perché a un certo punto ho capito che era una roba che per pura casualità mi ci sono avvicinate alle community e poi è nato tutto il resto del network invece normalmente nasce prima il network e poi ti avvicini al resto e secondo me è quello che anche come sviluppatori comunque come come informatici a tutto tondo è utile perché sta cosa che l'informatico sta davanti al computer da solo con il cappello con la felpotta è una roba che non esiste cioè io penso che ora sarà che ci sto proprio dentro alle community tech diciamo però come informatici non riusciamo a non parlare con altri informatici delle nostre cose cioè non ce la facciamo a sta fermi e buoni e secondo me tutto questo parlare porta anche a essere dei professionisti comunque più in gamba ecco questo assolutamente non penso esista un settore con così tante community come l'informalica insomma dove c'è gente che fino che la sera dopo cena si mette a parlare delle stesse cose di cui ha trattato fino a prima di cena con altre persone è vero è vero io ne sto parlando spesso ultimamente con tante persone probabilmente no soprattutto perché noi abbiamo tanto il concetto dell'open source e quindi quello che ad esempio io spesso di giorno per lavoro o per per passione mia magari scopro delle cose io non vedo l'ora che arriva la sera magari ora che sono in live appunto che faccio queste live e di condividerlo subito cioè istantaneamente oppure di organizzarla meglio e condividerla comunque prima o poi non c'è questa cosa di imparo questo e me lo tengo per me perché così magari assolutamente anzi chi ha questo meccanismo chi ha questo modus operandi spesso è chi rimane cristallizzato in un in un ruolo in un in una certa diciamo posizione e più di tanto non va avanti diciamo non diventa magari non si migliora mai ecco non cresce mai professionalmente poi magari non lo so personalmente può darsi pure ok quindi podcast con i ingegneri buonasera comunque buonasera tutta la chat sto cercando di essere abbastanza cioè di non salutarvi tutti altrimenti interrompo spesso Eugenio però allora quindi podcast si è fatto community non è bastata che poi ad esempio del podcast è una cosa che mi sono sempre chiesta ma ad esempio Alessandro mi sono dimenticata di chiedervi di chiedergli è il podcast ha comunque una sorta di community che un network che gira intorno o è semplicemente il contenuto allora per ora è semplicemente il contenuto non abbiamo non abbiamo mai cioè non abbiamo pensato di crearci una community intorno ma adesso ve lo dico e Alessandro e forse lo ascoltano probabilmente lo penseranno no non lo so però è solo contenuto non c'è non c'è una community intorno o qualcos'altro ok no perché sto cercando di capire anche come questi podcast stanno nascendo adesso alcuni fanno lo switch a Twitch per poi essere anche appunto una community su Discord varie e invece mi fa mi fa piacere sapere che esistono anche comunque podcast che fanno il contenuto per il contenuto non necessariamente per altro anche perché poi voi avete anche l'altra community che invece lì è è tutt'altro è proprio una community nata per quel network esatto quell'altra community è tutt'altro tra l'altro torno un attimo sul podcast è veramente complesso abbiamo poi scoperto col tempo gestire una community quindi è è veramente difficile secondo me riusci a gestire cioè tu lo fai in tanti so che lo fanno gestire una community legata al contenuto ma non è banale starci dietro secondo me mentre invece l'altra community che gestiamo è Super Heroes Valley di cui ho parlato brevemente all'inizio e quella è nata in remoto quella è nata grazie sempre a Luca e a Remo che hanno seguito un talk di un di un ragazzo di Google che è venuto a parlare all'università di Pisa e ha lanciato lì un'idea cioè l'idea che ha lanciato questo ragazzo che poi ci segue e ci dà una mano in tutta la gestione della community è in tutti gli altri paesi i ragazzi vengono preparati per poter entrare nelle grandi aziende perché c'è comunque un percorso da fare una serie di esercizi anche banalmente la preparazione per l'intervista come approcciarsi con l'interviewer in tutti gli altri paesi vengono fatti e quindi banalmente vediamo percentuali di persone che lavorano a Google altissime da altri paesi europei o altri paesi del mondo ma basse dall'Italia e ha buttato lì l'idea e dice ok ma perché non fare una community a Pisa dove c'è un'università grande in cui si danno dei consigli si danno degli strumenti per poter riuscire a entrare in queste big tech Luca e Remo l'hanno subito contattato hanno tirato in mezzo anche me e Alessandro e siamo partiti è una community che è nata subito in remoto e non so è molto comodo cioè nel senso noi ci siamo trovati in un momento in cui abbiamo visto magari tante community fisiche non potevamo più seguire tante community fisiche noi ci siamo trovati a nascere in un momento in cui era tutto totalmente virtuale questo ci ha avvantaggiato un sacco perché noi portiamo tendenzialmente un intervento un talk a settimana ogni due settimane con ospiti che vengono dai big tech sarebbe stato impossibile farla nascere tutti dal vivo perché insomma diventava complicato farli venire giù dall'Irlanda o tutti i vari post in cui sono e e quindi ecco abbiamo iniziato a fare questi talk abbiamo iniziato a a proporre esercizi di tipo su lit code o interview bit e a fare tutta una serie di attività la cosa figa di questa community è che ci ha ampliato il network in una maniera esagerata cioè se io mi guardassi indietro ne parlavo qualche giorno fa con Alessandro e non avrei mai pensato di poter arrivare ad oggi e di ok ho fatto quattro chiacchiere con persone di Google Microsoft eccetera eccetera e lo portate al podcast alla community ci hanno dedicato del tempo è una figata a pensarlo così sì sì su questo condivido infatti già prima con la community del GDG avevo questa cosa del ma vabbè ma oramai non mi faccio problemi a chiedere ora che invece ci sto mettendo la faccia mi sono proprio sempre solo io che prendo intervisto persone per adesso sempre nella mia cerchia di contatti che però comunque ora a parte con te che mi sento abbastanza più tranquilla però ho avuto anche persone molto che comunque non conosco benissimo sono molto esperte e c'è sempre la cosa del ok nel senso sono davanti a un professionista c'è sempre un po' siamo un po' come chi è appassionato magari di cinema con l'attore la rock star l'attore no che se uno magari studia recitazione per lui è il top del top poterci parlare e per noi è un po' così cioè io chiunque intervisto comunque sono persone che c'è sempre un po' l'ansietta quella di anche soprattutto riuscire a fare le domande giuste e tirar fuori il contenuto no il contenuto comunque anche il contenuto per poi il contenuto giusto la cosa giusta che io so che magari quella persona magari ha fatto nell'arco della sua vita come esperienza e di lasciarla perché poi non è che io faccio queste chiacchierate per me stessa le faccio perché le sto facendo in live non disturberei mai tutte queste persone per me basta sarebbe un po' eccessivo quindi assolutamente for science esatto per la scienza esatto esatto ok ottimo ottimo esempio un consiglio un consiglio che daresti la domanda spero di non farà troppo ingarbugliata tutto questo format come ho detto più e più volte è nato appunto per come dire dare un contenuto in più legato all'orientamento o anche semplicemente alle esperienze di tante persone che hanno fatto comunque un percorso non strettamente lineare secondo me almeno non troppo ecco perché comunque di quello che ho capito i neodiplomati o chi si sta per diplomare o anche chi è in quella fase lì di inizio diciamo della vita vera che è fuori quella dalla scuola che comunque lì è tutto abbastanza più standard secondo me in questo periodo sono molto molto più in difficoltà magari a noi della loro età quando avevamo la loro età perché tutto sommato c'era abbastanza informazioni ora forse addirittura ce n'è talmente tanta e con il fatto ci siamo tutti chiusi con il covid ho sentito un po' la necessità di provare a dire ah ma aspetta io ho tutto questo network di persone che mi stanno intorno che a me danno un valore cioè per me sono fondamentali perché non provare a portare tutte queste persone qui e lasciare l'esperienza che io conosco anche altre persone quindi secondo te quale potrebbe essere un consiglio anche una cosa proprio spassionata che diresti a chi è in quella in quella fase lì in quella fascia lì di indecisione confusione perché io ad esempio ho tante persone che non hanno fatto l'università e quindi magari ci sono anche la stessa medaglia io voglio diventare uno sviluppatore che faccio faccio l'università non faccio l'università quindi magari si ritrovano che ne so alla nostra età che sono già senior io ieri non ho conosciuto uno e gli ho detto cioè complimenti abbiamo la stessa età tu sei senior io ancora devo incominciare e lì dici cioè io da professionista che ora sono dico cacchio se magari me l'ero evitata ora sarei senior anch'io e dall'altro canto dico vabbè ma comunque a me questa esperienza ha portato tanto perché non sarei quella che sono quindi ecco ti ho fatto questa cosa intorno ma allora dipende tanto dall'esperienza che ho avuto e io riguardandomi indietro non potrei non consigliare una persona di fare l'università nel senso che a me mi ha permesso di fare una quantità di esperienze talmente varie e talmente belle che non è poi solo focalizzata l'università in sé cioè non è tanto lo studio ma è tutte le esperienze mi ha permesso di fare nel frattempo che non potrei consigliare altro e anche perché comunque se io me fossi ritrovato a 19 anni a iniziare a lavorare anche a fare lo sviluppatore non so se mi sarei mosso così tanto non so se sarei riuscito a crearmi le stesse opportunità che mi sono create con l'università che poi capitano casualmente però il fatto che tu ti devi spostare in un posto che non è casa tua secondo me quello aiuta tanto magari sarei rimasto qui vicino magari mi sarei divertito ugualmente però consiglierei assolutamente di almeno provare perché possono uscire fuori cose interessanti vai col senno di poi ha poco senso seguito interessi poi finisci come me che avrei voluto vivere tutto questo anche se ora mi trovo ad essere middle sì cioè la questione è questa però secondo me di quello che ho capito oramai conoscendo tante persone cioè tante comunque nel mio piccolo ne conosco tante sia laureate o che stanno comunque facendo il percorso accademico di diversi livelli poi nel senso sia chi si è fermato adrenale chi si è fermato a magistrale chi si è fermato al dottorato conosco tutte quelle fasce e chi dall'altro lato ha fatto di si è fatto comunque di autodidatta e poi ha intrapreso una carriera e anche lì conosco chi ancora sta a livello junior o middle ma anche persone super senior che stanno anni luce di competenze avanti a me avendo entrambi queste due figure io di quello che ho capito esempio è questo che prima o poi cioè è anche al di là dell'università proprio vista come scuola ma è una questione di opportunità che prima o poi anche se uno non fa l'università quelle opportunità che gravitano intorno a quello che potrebbe succedere all'università prima o poi comunque accadono come anche magari le competenze chiaramente quello poi dopo dipende anche da che il lavoro si sta facendo secondo me le competenze che all'università te le fai come esami strutturati se nel lavoro prima o poi c'è una necessità in qualche modo riesci comunque a colmarle chiaramente non alla stessa maniera ma in la maniera più pratica che uno le applica nel tempo zero diciamo e quindi secondo me è solo una questione che hai inizialmente cioè banalmente noi abbiamo fatto uno step di come dire di uscire dalla propria zona della nostra zona di comfort e continuare su cioè io sinceramente all'inizio io ho avuto degli anni in cui ho detto ma che cavolo sto fa a me l'informatica non piace più nonostante io tutti chi mi conosce cioè io ho iniziato a sviluppare a 13 anni e cioè io non riesco a vedermi senza lo sviluppo però ci sono stati degli anni in cui ho detto no io lascio stare e infatti poi ho anche iniziato a fare un lavoro che non c'entrava niente e sono certa di questo sono sicura che l'università mi ha portato a fare quel discorso se non l'avessi fatto all'università cioè se non ero in quella capsula di stress all'università sicuramente avrei cioè io non tornavo a casa non mi mettevo a sviluppare ero semplicemente full di quella di quell'ambiente secondo me c'è da trovare anche lì l'equilibrio ad esempio però sono certa che prima o poi i vari punti le varie cose si uniscono lo stesso se si devono unire sono molto filosofica stasera ci sta secondo me infatti non è il percorso in sé che dà valore aggiunto nel senso sì penso che magari l'università possa dar valore aggiunto nella preparazione o meno cioè nel senso conosco sviluppatori che l'università non l'hanno fatta e sono dei fenomeni quindi non è per forza quello penso però tu hai detto che è bene spingersi fuori dalla zona di comfort per spingerti fuori dalla zona di comfort secondo me ti servono delle scuse che ti spingono fuori cioè nel senso ti devi dare cioè devi trovare quel qualcosa che ti fa dire ok mi sto spingendo fuori dalla zona di comfort ma lo sto facendo per questo motivo perché se no esistono talmente tante motivazioni che ti fanno restare dove sei che è difficile staccarsi cioè per dirti per me spostarmi a Pisa era un uscire dalla zona di comfort mi sono dato la motivazione nel farlo perché dico ok vado in un'università migliore poi alla fine non era quella la motivazione vera e propria era un proviamo e vediamo che succede magari senza la scusa dell'università non mi ci sarei spostato e se sei bravo a darti degli stimoli in altro modo puoi tranquillamente farlo anche senza l'università insomma sì sì devi trovarti delle scuse secondo me ecco esatto esatto perché io poi nella mia breve che non è stato troppo breve percorso che ho fatto ingegneria quindi comunque metà dei miei studi sono da sono per metà ingegneria sarò per sempre metà ingegnere metà informatico nonostante sulla carta se prima o poi finirò sarò solo informatico informatica e hanno detto questo che lì c'era un'attitudine comunque un po' diversa da gli informatici perché gli ingegneri sono molto no che poi c'è uno in casa quindi non posso parlarne male assolutamente non ne sto parlando male però ho notato che tendenzialmente cioè che hanno questo comportamento del studio a testa bassa poi prendo il lavoro bla 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 io ho avuto tante persone che nel periodo in cui mi sono avvicinata alle community in quel periodo facevo ancora ingegneria che quando io gli dicevo che andavo a non lo so le sei di sera fino alle nove a seguire un evento all'altro lato della città tra l'altro perché ingegneria e informatica stanno all'opposto mi diceva ma che ci fai fare che ti serve tanto per passare l'esame non ti serve questa roba in più io dico ma che cavolo dici non me ne frega niente di passarlo o non passarlo all'esame è al di là di quello soprattutto in quel periodo volevo ricominciare a guardarmi intorno a livello tecnologico perché poi quando si studia solo si molla tutto il resto quando entri nel mondo del lavoro sei all'oscuro di ogni cosa praticamente e ho notato comunque persone che tuttora comunque conosco si sono laureate magistrali cose bla 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 persone che da un punto di vista accademico sono massime referenze però poi non hanno un network non hanno non sanno che bordi neanche una community non sanno neanche che cosa vuol dire far parte di una community e quindi anche di una roba chiamiamola comunque open source cioè alla fine una community è un progetto open source secondo me perché tu ci dedichi il tuo tempo libero le tue competenze e il riscontro non sempre c'è monetario anzi io non guadagno niente tutte le community che ho aiutato ma va bene così non mi interessa anche perché tutte le opportunità che comunque mi sono girate intorno senza quelle non ce l'avrei avuta quindi comunque c'è un guadagno mio personale assolutamente vai vi leggo vi leggo in chat allora vanno coltivate il fulcro e sempre carpe rime con essenza università cambia il contesto ma è su coresta esatto sì concordo se non fossi stato nel contesto di un percorso universitario non avrei ottenuto la prima occasione formativa in una start up che anche se è durato solo sei mesi mi ha permesso di continuare in ambito lavorativo senza sarebbe stato diverso meglio o peggio non lo posso dire con certezza ma penso sia stata un'opportunità in più sì 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 certo esatto cioè sono opportunità magari che appunto ti si combagliano combogliano prima e magari invece senza università si riuniscono i puntini ma magari dopo o in un altro modo però vedo vedo che c'è molta magari appunto super sicurezza io sono nel mezzo non sono ancora laureata l'università per me è stato boh un punto interrogativo nella mia vita e sono nel mezzo tra persone laureate e super convinte di quello che sanno e poi invece secondo me non ne sanno persone che ne sanno uno sbotto ma magari non hanno una laurea e quindi a volte si sentono un pochettino come dire in difetto e e sta cosa è assurda è assurda perché è tanto strana a volte non riesco neanche a capire perché tutto sommato noi non siamo medici non siamo neanche non lo so dottori vabbè in senso proprio medici che ti tagliano la pelle nel senso tutto sommato il pezzo di carta ci serve ma non proprio per abilitarci ecco quello volevo dire eppure a volte c'è questo questa non lo so questi due mondi separatissimi che secondo me sono assurdi che ci siano però è vero però col senno di poi io non penso cioè magari quando uno inizia l'università la inizia sperando di imparare cose quando la finisci hai imparato sicuramente un sacco di cose però ecco quando faccio il bilancio il bilancio positivo non è dato dalle cose che ho imparato ma da tutto quello che ho fatto le persone che ho conosciuto e tutte le varie cose che mi ha permesso di fare solo il seguire l'università poi le conoscenze tanto quelle viviamo in un settore in cui dobbiamo studiare ogni giorno se no ci perdiamo quindi è relativo secondo me comunque ho parlato troppo solito intervisti sto zitto e sera mi sono no no è giusto così bella domanda Ale cosa vi spinge a fare quello che fate vai Evo prima te ma allora i soldi no dai non lo so poi il fatto che mi piace fare cose nel senso che tendenzialmente mi piace fare quello che faccio mi piace fare attività nuove con persone con cui mi trovo bene cose che in cui posso aiutare a diciamo a come posso dire posso fare qualcosa per raggiungere un obiettivo semplicemente divertirmi cioè io in quello che faccio mi diverto e quindi lo faccio per questo bello sì questa cosa dell'aiutare le persone effetti anche io ce l'ho ho iniziato con la passione appunto di sviluppare siti web proprio perché era un modo super immediato per aiutare qualcuno che aveva bisogno di portare magari la sua azienda o la sua professione online quindi sì sì anche io su questo poi io in più ho tutta come cosa tutto questo che sto facendo online nelle community e via dicendo lo faccio perché da un punto di vista proprio personale mi piace mi diverte un sacco perché sono uno strecco a farlo però poi ho anche una cosa in più che mi è rimasta dalle superiori io lì ho avuto l'opportunità di fare effettivamente una scuola ho fatto uniti informatico che era eccezionale cioè per me la mia formazione più alta che ho è quella più alta proprio a livello di quello che loro mi hanno dato e quello che io ho appreso e l'esperienza che ho avuto super positiva in particolare ho avuto una professoressa che mi ha un po' guidato in questo mondo da donna comunque nell'informatica e trovo che è stata fondamentale nel mio percorso mi ha fatto capire che nonostante io fossi comunque una minoranza in questo mondo dovevo credere in me stessa c'è sempre questa cosa della sindrome dell'impostore e è per quello che io comunque come donna mi sento anche un po' un po' in dovere di dire nonostante io non sia boh non lo so una ricercatrice super di cose non faccio partire missi cose del genere no sono nel mio piccolo però sono attiva nel mio piccolo e ne so abbastanza di dire potrei essere anche utile a tutte quelle ragazze che dicono no vabbè ma questo non fa per me perché non sono abbastanza brava io ho anche questo questo piccolo non è un peso per me è una cosa che mi stimola molto perché quando è che non ho voglia di fare queste cose dico no ma io ho un obiettivo un po' più grande poi sembra che mi voglio diventare presidente di Stati Uniti no però ecco questo piccolo obiettivo che mi sprona ok poi aggiungendo quello che dicevo prima in realtà c'è anche il fatto che quando fai qualcosa di tuo dà un sacco di soddisfazione nel senso quando vedi quello che hai cercato di costruire che prende forma e inizia avere un senso essere utilizzato io lo vedo con Toket lo vedo con la community del podcast però quando inizi da zero e metti tanti piccoli blocchettini arrivi a un certo punto in cui quello che fai comincia ad avere un senso è bellissimo secondo me quello lì spinge tanto a fare le cose secondo me sì sì allora quindi ora siamo arrivati alla parte clou quindi blockchain e Toket direi che che ci siamo vai da quale partiamo ah sceglite sceglite io so che questi sono gli argomenti che potreste ricevere anche più domande quindi vedite vedite partiamo da da Toket e mi riaggancio a dove eravamo rimasti quindi contamination lab viaggio che ci siamo fatti e quella è stata un'altra cosa che secondo me ci ha ci ha dato una bella spinta nel partire nel senso vabbè piccola parentesi perché mi è venuta in mente io quando ripenso al viaggio che abbiamo fatto in Silicon mi vengono in mente tre cose quattro se pensa anche Ale che cade nel ruscello quasi però le tre cose sono le slide in aereo perché noi eravamo partiti come block lock e durante il viaggio d'andata c'eravamo messi avevamo preso internet sull'aereo con un cavo ethernet cercavamo di condividerci internet da un computer all'altro perché costava un botto in aereo e quindi stavamo tipo con i cavi e ci eravamo messi a fare le slide per Tocat perché nel frattempo Nicola era a Milano a fare delle presentazioni al campus party e quella è un primo ricordo poi c'ho il pitch fatto dal nulla a un investitore in Silicon Valley di cui noi non avevamo nemmeno non c'eravamo né intenzione di cercare investitori lassù né altro però ci avevano fatto fare un tour ci avevano portato da questo investitore perché ci volevano spiegare come funzionava e con Alessandro mi ha detto vabbè proviamo andiamo lì e spieghiamogli quello che facciamo noi abbiamo poi ne ha mandato il deck nel nulla però alzarsi di botto andare lì in inglese e spiegargli quello che fai è una cosa che è sempre boh figo quando ci ripenso e e poi ci hanno insegnato quanto il network è importante questa è un'altra cosa che anche al Contamination Lab ho imparato e a forza andare avanti ho visto sempre più importante e quando siamo tornati da quell'esperienza l'abbiamo messa in pratica e grazie a quello che abbiamo poi Nicola è il maestro del network però è grazie a quello che siamo riusciti a raggiungere tante persone tante potenziali clienti abbiamo cominciato a rompere scatole a tutti non avevamo nemmeno un MVP e siamo andati a parlare con potenziali clienti che non ci saremmo mai immaginati senza nemmeno un'applicazione da presentare solo con le slide e quindi il network è stato fighissimo e l'inizio di Toget è stata un'altra cosa che forse è una delle più divertenti che ho mai fatto perché eravamo io Ale e Nicola e passavamo le giornate nell'ufficetto vicino al Contamination Lab che il Contamination Lab ci ha messo a disposizione in cui smattavamo dietro a problemi andavamo in tre a parlare con chiunque rompevamo le scatole veramente a mezzo mondo e cercavamo di sviluppare l'applicazione poi quando capitava studiavamo pure ma quello era secondario sì che poi l'impazzire mi ha confessato che grazie al covid comunque vi siete riusciti a laureare io non penso non mi sarei mai laureato penso e Alessandro nemmeno perché poi la tesi l'abbiamo fatta insieme quindi non avremmo mai visto la fine della magistrale senza il covid perché appena è arrivato il lockdown abbiamo detto ok tanto adesso è tutto fermo noi facciamo ticket preventi dal vivo e adesso non solo ma ticket preventi dal vivo adesso è tutto fermo prendiamo sta laurea perché se no non la prenderemo e quindi nel giro di tre mesi abbiamo scritto la tesi praticamente e ecco da lì siamo partiti e ci sono stati tanti step che è anche difficile schematizzare perché quando lo riguardi indietro c'hai tante cose e non saprei nemmeno bene come raccontarlo però sicuramente la partenza tutti e tre insieme in quegli ufficetti è stato è stato l'inizio poi ci sono state tante persone che ci hanno aiutato a arrivare diciamo a sviluppare meglio il prodotto a capire meglio come andare avanti amici persone esterne e tutto quanto e poi penso la pandemia sia stato un altro piccolo un altro un qualcosa che ci ha fatto riragionare il mini ufficio può essere il garage il garage sì sì il mini ufficio del contamination lab la pandemia è stata un'altra cosa che ci ha un po' svoltato nel senso che noi con col primo lockdown dovevamo decidere che strada prendere nel senso che noi eravamo arrivati appena prima del lockdown con un MVP funzionante e tanti primi contatti per cui poter andare e fare i primi eventi arrivato il lockdown non avevamo più nulla quindi a quel punto come dicevamo prima la scelta di finire l'università con Nicola che praticamente si è preso Tocat sulle spalle e ha continuato per tutto il periodo in cui noi facevamo la tesi a contattare gente a tenere vivo quello che se no non sarebbe stato vivo finito il primo lockdown quindi in quei due mesi di vacanza che ci hanno dato l'estate abbiamo fatto i primi eventi e lì ecco quella è un'altra situazione clamorosa perché tu ti immagini che il primo evento prima volta che provi l'applicazione reale in un contesto reale troverai dei problemi non è vero primo evento 20 persone un evento carino ma piccolo nessun problema il giorno dopo c'avevamo un evento da qualche migliaio di persone in un posto un po' sperduto vicino Lucca e noi tranquilli perché cavolo abbiamo fatto un evento ieri oggi cosa può andare male tutto c'è tutto tutto perché non avevamo considerato che potevamo andare in un posto senza internet e noi a noi internet serviva e quindi avevamo una fila di 500 persone in cazzate nere che aspettavano per entrare e internet non andava quello è stato bellissimo riguardandolo adesso bellissimo quella sera terribile perché perché comunque devi giustificare perché non va ti prendi gli insulti delle persone che stanno lì a cercare di scaricare l'applicazione o a comprare il biglietto ma internet non va e Alessandro scrive ricordo il fingere che l'app andasse perché poi lì eravamo in tre abbiamo gestito un po' la cosa quindi Alessandro e Nicola partivano andavano in cima alla fila e dicevano ok iniziate a scaricare l'applicazione comprate il biglietto quindi arrivavano giù col biglietto io scansionavo e facevo finta di scansionare nel senso che scansionavo poi mi facevo dare nome e cognome e poi la sera ci saremmo rimessi a fare il documento fatto bene perché poi era momento covid quindi dovevamo dare anche il resoconto preciso di tutte le persone che entravano e questa è la prima sera ma la serata non è finita perché poi a mezzanotte torni a casa di Nicola ti metti lì rifai tutto il documento per bene il giorno dopo c'avevamo di nuovo quell'evento quindi con tipo finito di fare il documento verso l'una dall'una in poi con Alessandro abbiamo detto ok sistemiamo l'applicazione noi cerchiamo di limitare il più possibile l'utilizzo di internet allo stretto indispensabile e Nicola ci ha supportato tipo per un'altra ora e mezzo poi l'abbiamo mandato a dormire perché poverino nel senso lui era quello che poi il giorno dopo doveva andare a parlare con tutte le persone mi aveva detto vai a dormire noi siamo andati a dormire circa le otto e mezzo sette e mezzo il giorno dopo abbiamo rotto l'applicazione tre volte in quella notte nella disperazione l'abbiamo rifatta funzionare e poi a fine è andata il giorno dopo era quasi decente siamo riusciti a portare a casa altre due serate è stato ottimo ottimo e poi il secondo lockdown lì la decisione era ok che facciamo andiamo avanti e aspettiamo altri non so quanti mesi in lockdown sperando che poi gli eventi ricomincino oppure ci buttiamo sullo streaming e così abbiamo fatto quindi praticamente è stato come ricominciare con un'altra con un'altra startup quasi nel senso che abbiamo tenuto quello che abbiamo fatto fino a prima abbiamo integrato tutta la parte di streaming che non era non era piccola era una cosa totalmente nuova anche qui ci hanno dato una mano amici altre persone abbiamo allargato il team perché poi sono giunti Lorenzo e David adesso siamo in quattro e siamo arrivati ad oggi sì infatti la mia domanda è anche questa come cioè normalmente quando uno cerca lavoro dice vabbè o faccio il dipendente o faccio il freelance ho intervistato infatti entrambe gli ambiti diciamo però mi mancava quello dello startupper perché comunque siete cioè più che i nuovi arrivati dentro a Togget che magari la vivono quasi da dipendente quasi perché comunque siete ancora piccolini te la vivi proprio da imprenditore da startupper vero una giornata tipo e poi come come anche gestire l'assunzione comunque di qualcuno allora devo dire che alla fine sia David che Lorenzo sono entrati in un momento in cui praticamente è come se fossero anche loro entrati da zero perché sono entrati nel momento in cui abbiamo deciso di passare allo streaming quindi si sono vissuti di nuovo tutta la parte del ok e adesso che famo e come lo famo quindi diciamo che anche per loro probabilmente è stato un po' così un po' come per noi all'inizio e non mi ricordo che domanda mai fatto allora la giornata un po' tipo di perché la giornata tipo di un freelance è pazzia pura quella di un dipendente è un pochettino meglio quello startup secondo me è pazzia all'estrema potenza non lo so no no è pazzia anche quella nel senso che per fortuna siamo riusciti a dividerci un po' ai ruoli nel senso che Nicola fa tutta la parte che io odio quindi tutta quella del chiamare le persone parlare con persone e cercare persone con con cui fare qualcosa qualsiasi cosa possono essere clienti partner e tutto quanto quello se lo gestisce lui e è delirante perché lui passa praticamente se può incollare il telefono all'orecchio e lui passa le giornate tra video call chiamate e tutto quanto e non so come fa io me occupo più che altro sì della parte tecnica e poi tutto lo smatto che c'è nel nel cercare fa tutto quanto quindi la giornata tipo di solito è non c'è una routine nel senso che tendenzialmente ti alzi che sai che c'è dei task da fare quei task verosimilmente cambieranno tre volte durante il giorno no questo è è ampliato però non so mai fissi esce sempre una priorità diversa perché poi magari c'è l'evento grande che devi fare e quell'evento ti richiede una cosa in particolare e tu non puoi permetterti di perderlo perché sei piccolo sei all'inizio lo devi fare e quindi cambi totalmente le priorità è tutto un continuo cambiamento che è da una parte un delirio dall'altra è forse la cosa figa beh sì e quindi te sei comunque essendo il CTO un po' il manager dei perché gli altri due sono sviluppatori o sono ah no ok sei l'unico sviluppatore attualmente sì io sono il CTO di me stessa ah ok ok io pensavo fossero sviluppatori pazzesco no 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 attualmente attualmente da solo ok ok se ricercate assunzioni vuoi relativamente breve sicuramente però quindi chi ci ascolta ragazzi esatto chi è interessato facciamo una chiacchierata poi vediamo ancora non è il momento ok ok perché in pratica a un certo punto ci sono stati bisogno di altre qualifiche diciamo che non era proprio quello sviluppatore invece pensavo che a un certo punto bisogna cioè partendo da un MWP per forza di cose prima o poi hai bisogno di uno sviluppo magari più come dire un po' più strong ecco ok però sei riuscito comunque a gestirla te anzi avete avuto bisogno di altre figure professionali se posso che fanno ad esempio io so che cosa fa più o meno Nicola Nicola è il CEO proprio la esatto tutta un po' gli tentacoli dappertutto ha mille contatti e gestisce un po' tutti i nuovi nuove collaborazioni in pratica te comunque ok sei il CTO e gli altri? allora c'è Lorenzo che si occupa di tutta la parte legale che che è una cosa che di solito si sottovaluta quando uno inizia a fare startup ma va sicuro che senza Lorenzo noi avremmo fatto una quantità di cazzate enormi e è facile con le cazzate a livello legale poi dopo arrivare a fare qualcosa di non troppo bello quindi si occupa di tutta si smazza tutta la parte legale di come vengono gestiti i dati ecco questa è un'altra cosa se l'avessimo fatto io e Nick avremmo regalato dati come come non ci fossero domani e chiaramente non lo puoi fare ma non lo sai guarda l'abbiamo conosciuto inizialmente perché Nicola l'ha contattato quando avevamo preso avevamo iniziato a gestire tutto con Ubenda solo che noi non abbiamo idea di come va configurato quindi quello che che è stato fatto Nicola sente Lorenzo e dice oh ma qui come lo devo configurare e da lì è iniziato un po' il rapporto poi dopo abbiamo continuato con l'ore perché noi avremmo fatto veramente un delirio quando abbiamo configurato inizialmente Ubenda abbiamo inserito roba che valeva solo in Brasile per esempio io ti avverto non mi parla male di Ubenda per favore no 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 infatti non ne parlo è fichissimo però se lo dai in mano un informatico ti scrive che il suo servizio è valido per gli unicorni quindi è comunque se hai qualche problema con Ubenda ho il contatto diretto con il back-endista perché ho lì sì che è back-endista lì appunto Ubenda ah ok sì la scorsa settimana ho conosciuto anche il loro Wix designer e quindi se hai problemi abbiamo proprio il filo diretto l'altro giorno per poco scoprivo in live un problema in back-end che poi mi sono scoperto che era un problema mio solo e lui è stato felice no ma allora devo devo in qualche modo riadrizzare quello che ho detto no non è vero nel senso che Ubenda non ho proprio assolutamente no funziona soprattutto la parte back-end è perfetta quindi no vabbè a parte gli scherzi ecco allora si occupa di tutta questa parte David è entrato con l'idea lui ha fatto per tanti anni tutta la parte di vendita insomma e poi dentro Toget non fa solo quello nel senso che si occupa di come fare il project manager in parte della grafica fa un sacco di cose David però ecco Toget non l'ho tirato su da solo anche la parte tecnica nel tempo ci sono state persone che ci hanno aiutato insomma c'è stato Luca che ci ha dato una mano e varie altre persone amici che ci hanno aiutato anche sulla parte tecnica quindi ecco comunque confermo quello che dicevi che da soli è difficile farlo anche la parte tecnica quando arriva a un certo livello è complesso quindi c'è bisogno di una mano e ecco quindi oltre a chiederti che consigli daresti magari a chi che era appunto la scuola chi sta a fare l'università mille consigli e non poteva mancare il consiglio ma se uno ha un'idea il consiglio è proprio quella domanda più generica che può esistere se uno ha un'idea come fa a capire se potrebbe essere una startup buona per essere una startup oppure no e diciamo anche proprio se uno ha un'idea ma esempio io Diana ho un'idea io non posso aprire una startup sola cioè non riuscirei a gestire tutto come funziona anche quella cosa nel ho bisogno comunque di altre persone intanto per quantomeno per confrontarmi con una persona cioè con un altro cervello che è fuori da me e la pensi in un modo completamente diverso e mi dà un feedback immagino quindi ti ho fatto un po' lunga la domanda questa per me è fondamentale cioè nel senso che intanto non ti so dire come si valuta un'idea nel senso che secondo me alla fine tutte le idee sono buone la validazione iniziale pensi risolva un tuo bisogno allora poi valuta se risolve il bisogno di qualcun altro la seconda cosa è parlane con qualcuno perché tanto far startup da soli non è possibile quindi almeno serve un'altra persona con cui sbattere la testa sugli spigoli quando qualcosa non torna o qualcosa va male e se poi ti ruba l'idea? ecco questa è un'altra cosa che la gente non ruba le idee la gente non c'ha tempo per mettersi a sviluppare le idee degli altri non è possibile io l'ho sentito dire un sacco di volte ecco è sempre un'esperienza un po' strana che ho avuto all'università è stata questa che mi sono sempre messa disponibile già si sa quello che so fare comunque come frontendista e si sa le competenze che ho come livello di community a un certo punto mi è capitato di sentire appunto lì cioè di avere nella mia cerchia di conoscenze qualcuno che aveva un progetto e voleva farlo diventare una start up avevo capito questa intenzione perché magari mi faceva delle domande molto collaterali e a un certo punto ti ho fatto guarda scusa però se vuoi veramente un feedback dimmela si idea nel senso no non me l'hanno detto e io gli ho detto vabbè ragazzi cioè io non mi posso neanche aiutare cioè io mi ci sono proprio messa di buona volontà però se non ti posso anche provare a dare dei contatti cose però magari potrebbe essere anche qualcuno che ha fatto un'esperienza completamente diversa che ti do sto contatto che magari è la persona più brava del mondo ma non per quello che serve a te no quindi sta cosa non ve ne tenete l'idea anzi se volete un feedback bisogna che la dite tutta no in parte perché se no magari sia anche un feedback parziale assolutamente e poi oltre alla persona con cui condivido tutta l'esperienza startup perché se no veramente non si va avanti il network nel senso che questa è una di quelle cose che ormai sembra un luogo comune perché la senti dire ovunque ma se non andate in giro a parlare con le persone vi perdete tanto opportunità e lo dico io che non so proprio una persona che inizialmente fa network c'è Nicola che si occupa più di quella parte ma senza il network di Nicola noi probabilmente ci saremmo fermati da tempo quindi questa è un'altra cosa fate network trovate un'altra persona sull'idea io penso che ogni idea è buona tanto alla fine non è l'idea ma è come la sviluppi no quindi chiaro chiaro allora vai leggo il commento nell'ambito delle startup è molto utile prendere conoscenze dell'indice TRL technology readiness level non lo so cioè ok non lo sapevo è sicuramente cioè è vero io dico la mia la mia esperienza che è da startup piccolo nel senso che siamo partiti da poco siamo ancora in realtà molto piccola c'è tanto bisogno di lanciarsi nel senso che all'inizio c'è un prodotto brutto funzionante il giusto e che fa un terzo di quello che vorresti che facesse però lo devi lanciare perché se aspetti che il prodotto sia perfetto è passato troppo tempo è passata anche la voglia probabilmente quindi è vero quello è un indice importante però secondo me dipende anche un po' dal livello della startup se sei all'inizio secondo me devi arrivare a un punto in cui dici ok basta questa è un MVP facciamo qualche test tanto andrà male sicuramente ci sarà qualcosa che non va e anche lì bisogna imparare gestillo quindi secondo me bisogna lanciarsi ad esempio mi ricollego un attimo una cosa che dicevi del network perché hai detto una roba che vorrei sottolineare io sono io nasco come la persona più attività del mondo io anche imparavo ora sta cosa ho anche imparato tardi a parlare i miei genitori sono anche un po' preoccupati purelli semplicemente perché io adoro stare in silenzio e farmi affari miei e ascoltare sono una persona che ascolta moltissimo non si direbbe perché ovviamente sta su Twitch a parlare però vabbè nasco come persona molto timida e per molti anni non ho avuto neanche io non ho manco avuto amicizie non sentivo neanche la necessità poi ho scoperto le community e ho scoperto che nel mio mondo cioè quello degli informatici tutti avevano questo problema e quindi banalmente non sapere all'inizio comunque non ti dico proprio relazionarsi bene però neanche magari riuscire a esporre le proprie idee correttamente che lì è proprio lì ho detto cacchio ma cioè quella era una roba fondamentale io spesso non riuscivo a farmi capire e ci so cioè anche in famiglia non riuscivo e ma ha spronato a quel punto a dire ok è una roba che penso potrebbe essere utile focalizzarmi nonostante la mia timidezza provo mi butto e lì è nata appunto la cosa con il GDGP e poi boom tutto il resto dal dire va bene e sinceramente io il beneficio più grande che ho riscontrato da tutto questo è che finalmente riesco a parlare quando voglio dire qualcosa mi so spiegare cioè sembra una cosa super super che cavolo però anche in famiglia ad esempio quando è che provo a spiegare delle cose soprattutto degli informati che loro non sono assolutamente informati quindi livelli di complessità molto alta riesco a spiegare le cose con sia una semplicità che anche un filo logico una chiarezza discreti è una roba che chiaro cioè oramai sono non lo so dal 2015 che ho iniziato a quindi attivarmi su questa cosa e ora posso dire ok mi sento tranquilla davanti a a persone a chiacchierare cose nonostante comunque lo dico spesso le sere che faccio un po' tardi che inizio un po' a sgarellare e mi intreccio con le parole ma quello siamo umani non siamo perfetti penso sia normale eh sì però secondo me abbiamo tracciato abbiamo toccato un sacco di punti che provo ogni tanto a dire qua e là e li abbiamo riassunti tutti in questa live quindi sono un sacco felice immagini poter prenotare un taxi con un'app ma li puoi chiamare col telefono chi dà e poi Uber e poi fu Uber esatto sì sì è vero eh verissimo assolutamente sì sì perché spesso poi io sono master eh in sforno idee come se non ci fossero domani poi in effetti al concreto dico sì ma queste cose magari servono solo a me ecco l'unica che non ho fatto questo progettimento è questo famoso orto planner che piano piano porto avanti quella è una roba che ho detto vabbè a me serve più o meno esiste però a questo punto la utilizzo come come scaletta per anche imparare qualcosa e ad esempio questa era una domanda stavolta non me le sono scritte fortunatamente però mi vengono lo stesso io ho visto esempio come freelance che tutto sommato quello che so è più o meno quello che utilizzo sempre cioè non c'è mai quella quella cosa del ah ma è arrivato un sito nuovo allora mi butto proprio con un'altra tecnologia proprio a meno che magari è qualcuno che conosco e posso avere questo come dire questa carta bianca diciamo se sei dipendente invece magari soprattutto in aziende che sono fatte bene e hai questa crescita perché magari ti danno l'opportunità di toccare diverse tecnologie in una start up sinceramente non ho idea cioè te riesci comunque cioè ti senti comunque soddisfatto nelle tecnologie che utilizzi o per adesso ti senti un po' annoiato perché stai sempre fossilizzato su una o comunque ti piace essere super verticalizzato su una com'è com'è allora io penso che aspetta è arrivata una domanda dai sì aspetta rispondo la tua e poi rispondiamo a questa che se no si apre un mega un mega capitolo allora infatti mi raspettavo questa domanda io non la volevo fare io infatti di base ti dico che essendo un junior nel senso che io ho iniziato con Toket quando ancora studiavo e poi ho continuato appena finito l'università non conoscevo tante cose quindi mi soddisfa il fatto che ogni volta che ho che esce fuori un bisogno nuovo per Toket io devo capire qual è la tecnologia giusta e magari è anche qualcosa che non conosco magari è anche innovativa per qualche motivo e quindi è bello perché me ne devo mi devo imparare qualcosa di nuovo chiaramente ti toccano anche le parti che non ti interessano cioè a me la parte frontend non mi fa impazzire va fatta e quindi uno la fa cerchi di tirare fuori la parte positiva quindi io prima inizia con Toket non conoscevo bene nessun framework per il frontend adesso comunque inizio a sapere utilizzare decentemente React quindi comunque vedi il lato positivo chiaramente ci sono delle cose che ti piacciono più fare delle cose che ti piacciono meno quindi a volte ti annoi a volte ti diverti di più però essendo nuovo essendo una cosa che tiri su da zero la cosa bella è che tocchi tante tecnologie diverse quindi almeno all'inizio poi magari col tempo ti stabilizzi nel senso già c'è uno stack magari definito però ogni volta che aggiungi qualcosa in più ti aggiungo qualcosa in più anche alle conoscenze mie perché prima non c'avevo questa conoscenza infinita quindi ok vai vai con la domanda Clu allora recap quindi con Tocchett l'idea iniziale era fare biglietti per eventi dal vivo il problema fondamentale che noi avevamo trovato negli eventi dal vivo era il bagarinaggio e la blockchain in questo ci viene incontro ci viene io e ci viene tuttora incontro perché quello che facevamo era digitalizzare completamente il biglietto quindi non esiste più una copia cartacea del biglietto non esiste più una copia per email o per pdf quello che viene fatto è creare un token non fungibile sulla blockchain e utilizzarlo come come ticket quando tu ti presenti l'ingresso presenti quel ticket quel ticket è univoco perché non possono averlo due persone contemporaneamente è un token della blockchain quindi la blockchain in questo ci garantisce che se ce l'ha uno non ce l'ha un altro perché non è replicabile tutte le transazioni sono tracciate e quindi il fatto dell'unicità del ticket lo gestiamo in questo modo in più c'è tutta la parte di rivendita che noi ancora non abbiamo integrato ma che il lato smart contract è pronta nel senso che creando un biglietto lì noi andiamo a inserire tutti i vari dati del biglietto all'interno del token e quindi abbiamo vari smart contract che ci vanno a gestire tutta la compravendita quindi non è possibile fare bagarinaggio attraverso lo scambio nel nostro market in più il market è anonimo sarà anonimo quando lo integriamo però nel momento in cui tu metti in vendita un biglietto non sai a chi andrà quindi non puoi sperare di mettere il biglietto al prezzo di acquisto e puoi sperare che la persona ti dia 200 euro cash perché non sai se la persona che lo acquista è realmente quella che c'è davanti o se è uno che sta a 30 km quindi tendenzialmente questi sono i benefici poi tanto ora iniziano le domande sappilo perché l'altra sera nel nostro aperitivo sono venute fuori eccola perché devi sapere che io di questo argomento ne capisco cioè ne so zero ne capisco il giusto perché probabilmente questa non è la prima volta che ho ascoltato questo discorso forse ho provato a chiedervi di spiegarmi sta roba anche quando eravamo al contavimento in National Lab dall'inizio di Toget allora quindi il problema del bagarinaggio non è più che altro una questione di rapporti umani invece che tecnologia è un problema di rapporti umani che puoi risolvere con la tecnologia nel senso che se io compro un biglietto cartaceo e lo compro perché lo voglio rivendere a 400 euro quello è un problema umano diciamo nel senso che io posso venderlo a una persona vicino ma posso risolverlo con la tecnologia perché se io il biglietto che ti do quando lo rimetti in vendita ti imposto un prezzo limite e tu non sai chi lo stai rivendendo diventa un problema che è arginato grazie alla tecnologia quindi non c'hai modo io nel momento in cui voglio vendere il biglietto a Diana se fossimo vicini non ho garanzie che il biglietto che ho io possa andare sicuramente a Diana quindi a quel punto tu hai eliminato il bagarinaggio perché se non so chi lo vendo e l'applicazione non mi permette di venderlo a un prezzo maggiore di quello di acquisto ho tolto il bagarinaggio chiaro chiaro cioè poi tra l'altro per come ha gestito il ticket attualmente ci sono vari problemi perché non c'è solo il bagarinaggio picciolo nel senso del biglietto che compro e lo rivendo a prezzo più alto c'è il fatto che la maggior parte dei biglietti venga gestito con pdf il pdf io lo posso vendere a dieci persone e poi il primo che arriva all'evento posso andare io primo all'evento e gli altri dieci non entrano però intanto magari i soldi l'hai presi quello anche c'è il fatto che se ti devo spedire il biglietto sì c'è Ticket One che c'ha la sua piattaforma per esempio con solamente i suoi biglietti però rimane una piattaforma fatta per chi non vuole lucrare sul biglietto chi vuole lucrare c'ha comunque altre piattaforme su cui appoggiarsi ora aspettando altre domande da Ristic quindi prevedo acquisti societari da parte di TUI cos'è TUI? non so vai non è vai la leggo non è una questione di attribuzione della fiducia da parte di un utente nei confronti di un ipotatico venditore un bagarino potrebbe offrire un sistema simile ma diverso da Ticket e spacciarsi per Ticket giusto? il tutto se è la capacità dell'acquirente di capire chi è il soggetto con il quale sta avvenendo la transazione aspetta che non ho capito la rilegola vai sì non è una questione di attribuzione della fiducia da parte di un utente che mi confronti comunque ragazzi se vi fa piacere parlare solo di blockchain io a questo punto vi organizzo una cosa nonostante sia proprio un tema a me del tutto estraneo no comunque un utente non potrebbe offrire un servizio simile a Ticket ma diverso nel senso che i biglietti emessi da Ticket possono essere venduti solamente da Ticket e quindi questo problema viene meno nel senso che comunque nel momento in cui fai il token puoi anche gestire insomma chi dà le autorizzazioni a cosa quindi noi abbiamo fatto in modo che quel token possa essere scambiato solamente attraverso i nostri smart contract e quindi quello non non c'è problema sulla seconda domanda non basta un dominio con SSL per cui gli utenti sì per carità cioè ogni cosa si può fare in tanti metodi diversi esagero un po' la mia risposta perché c'hai bisogno di un database se puoi fare tutto con un CSV chiaramente c'hai vantaggi e svantaggi poi questa è una provocazione ovviamente è diverso però chiaramente quello che uno fa con la blockchain puoi farlo con tante tecnologie diverse a noi è venuto comodo perché fondamentalmente fondamentalmente era per noi un sistema che ci permetteva di fare di gestire tutto il meccanismo di acquisto emissione e vendita del token tutto con un unico framework chiamiamolo e quindi per me per noi è stato molto comodo iniziare con quello e continuo quindi per noi c'è quel valore aggiunto che ho spiegato c'era la comodità di utilizzare quel tipo di tecnologia e chiaramente poi ci stanno tante tante altre alternative che uno può utilizzare intanto io ho due proposte una è avere tutto il team di token con annessi e sconnessi quindi anche chi chi non è più tanto streamyard abbiamo capito che troppe persone regge ok a 10 ci arrivo ok premium o freemium quale non me lo ricordo però va bene se non me lo compro non è un problema e l'altra è cioè effettivamente io già dall'altro giorno ho capito che c'è interesse evidentemente non c'è un punto d'aggregazione di questo argomento e io volentieri vi do uno spazio del mio facciamo una chiacchierata sulla blockchain si si può organizzare la prossima settimana o quando è volentieri cioè nel senso io non ne capisco niente non mi interessa proprio è proprio nella strisciolina di cose che mi fa piacere che esistano però poi stop non vado oltre però se c'è interesse a me io ragazzi sono super felice di di potervi dare uno spazietto spaziotto quello che vi serve ecco quindi che cos'è uno smart contract mannagiale ok allora cos'è uno smart contract intanto è per per farla semplice è un software che gira sulla blockchain e che quindi quando va a scrivere i dati li scrive all'interno della blockchain e viene viene eseguito dai vari nodi che permettono di permettono l'esistenza della blockchain ok una cosa che manca uno spazio di confronto sereno e non campanilistico è vero è vero soprattutto in è molto facile poi andare per schieramenti in questo caso mi è capitato spesso di di trovare persone fossilizzate su un punto o sull'altro insomma e anche fare la parte a volte di quello fossilizzato su un punto o sull'altro quindi sì comunque è vero a volte mi blocco ma perché continuo a leggere le domande che arrivano quindi no no vai vai tranquillo quindi infatti la domanda di prima è stata posta nell'ottica di chiedere senza precedizio del non serve per esempio la necessità di avere un sistamento di rato di pagamento quello interessante va enormi dubbi riguardo al vantaggio di univocità dato che è un problema di supply chain più di più che di natura tecnologica il problema lì nasce dall'utilizzo sbagliato di alcune tecnologie nel senso che fondamentalmente questo problema potrebbe anche non esistere nel momento in cui tu fai un biglietto cioè non esiste neppi o nemmeno come non esiste la duplicazione della banconota cioè è difficile è raro trovare trovare i soldi falsi adesso quindi se si continuasse col biglietto cartaceo con magari alcune accortezze lì la duplicabilità del biglietto verrebbe meno poi chiaramente essendo 2021 è ridicolo ancora andare in giro con i biglietti cartacei il mio più grande terrore io so un assiduo frequentatore dei concerti quando ancora si poteva andare ai concerti il mio più grande terrore era perdermi il biglietto prima di entrare quindi però tolto questo tolto il fatto che possiamo fare di meglio a livello tecnologico nel 2020 ci potrebbero essere metodi per rendere non diciamo per rendere univoco un biglietto cartaceo però nel momento in cui aziende che fanno questo di mestiere mi mandano un pdf quando io acquisto un biglietto è vero è un problema di supply chain ma è un problema che non gestiscono e in quest'altro modo io ti garantisco che se acquisti un biglietto è univoco si può fare in altri modi probabilmente sì però questo è un altro modo con cui io ti garantisco che quel biglietto è univoco se possiede apprendimento perché vai vai scusa no 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 niente assolutamente io se vogliamo fa va bene va bene ora mi organizzo direi la prossima settimana anche un aperitivo insomma quando fai gli aperitivi sul tuo discord va bene va bene ora questa settimana è saltato e la prossima ho letto che Mitch di developers life fa questo mega evento di ogni sera un argomento differente tutte le sere tipo per otto sere mi sembra perché una serata una cosa prolungata quindi vediamo se cioè mi piacerebbe non sovrappormi alle sue però la vedo dura la prossima settimana mi sa che le fai le stesse orarie in cui normalmente io faccio live quindi vediamo poi chiaramente anche i vostri impegni comunque direi che te ci sei sul discord Edo? sì Edo sì sì ci sta ottimo allora faccio un sottaggino e vediamo se preferite farlo in live oppure se preferite farlo in privato sul discord per me è differente come essendo che l'argomento mi sembra abbastanza come dire nell'aria e potrebbe nascere anche cose però vabbè ci sto io a moderare a quel punto ci sto apposta però visto che l'argomento è nell'aria e se ne parla ma neanche troppo considera cioè nonostante io sia non sia attiva cioè sono attiva su tutti gli argomenti anche se non mi interessa comunque cerco di capire quello che è più o meno di moda sul momento e sto argomento c'è ma non se ne parla vedo anche nell'altra community più grosse ovviamente di questa non partono mai di solito tanti discorsioni quindi come volete poi ne parliamo nel discord per chi non è ancora nel discord punto esclamativo discord ovviamente per chi vuole contatto link di nedia o punto esclamativo ospite niente non so io se se hai qualcosa che magari non ti ho chiesto io ho una domanda a cui dovrei rispondere sempre in ambito blockchain esatto esatto forse non so se ti sarai connesso però se ti va si rispondi alla famosa domanda pre live allora che non mi ricordo quindi aspetta profilo twitter di Eugenio se vai nel mio twitter l'ho taggato grande ok aspetta che riacchiappa la domanda perché non me la ricordo quindi posso farcela ok cosa ne pensi del progetto promossa dall'agit per quanto riguarda l'ipsi e dei registri di lt vabbè praticamente l'ipsi è una blockchain tra molte virgolette nel senso che è quella che loro chiamano blockchain e poi subito dicono è una dlt che ha lo scopo di permettere agli utenti di interagire con tutti i vari servizi della pubblica amministrazione oppure di poter interconnettere interconnettersi con l'altra blockchain privata europea che sta nascendo e permettere l'interconnessione tra tutti i vari servizi su questo io non vorrei essere troppo netto però io penso che l'interconnessione tra servizi sia sempre esistita e in questo non doveva arrivare la blockchain e in più non doveva arrivare una blockchain che non è una blockchain nel senso che loro stanno utilizzando una blockchain privata poi magari per chi non conosce esiste una blockchain che è pubblica e che quindi ha tutto un meccanismo di consenso e viene condivisa tra migliaia di nodi in tutto il mondo e poi c'è una blockchain privata che tu ti puoi tenere in casa con tre nodi e gestire tu autonomamente tutti i dati all'interno la blockchain pubblica ti garantisce che ci siano università dei dati bla 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 tutto quello che ti garantisce la blockchain la blockchain privata no ecco su questo fare una blockchain far passare come per una blockchain una blockchain privata dove tu hai il totale controllo dei dati giustificando il fatto che stai utilizzando una blockchain privata perché almeno sei più veloce e non permetti a tutti di entrare nel meccanismo è un modo per dire che non usi la blockchain quindi ecco non andiamo oltre d'accordo 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 qui sono d'accordo no aggiungo qui sono d'accordo con l'istik che c'erano sicuramente modi diversi per l'interconnessione tra servizi e ah ok ok allora direi se avete altre domande proprio sul focus delle blockchain lasciatele un attimo da parte cioè nel senso a meno che non sono proprio inerenti alla carriera e a tutto il resto di EU magari le possiamo tenere appunto per questa attività extra che facciamo così c'è anche proprio un confronto un po' più un po' più un po' più reale ecco altra domanda che frequenza massima di trasmissioni potete ottenere avete valutato versioni light no no tranquillo tranquillo vabbè no perché è sempre ok neanche la parola ok no non abbiamo diciamo a noi non interessa nell'utilizzo della blockchain non interessa molto il numero di transazioni che riusciamo a gestire per secondo nel senso che comunque non non è una roba in tempo reale abbiamo agganciato tutto un meccanismo dietro che non permette la rivendita del ticket finché del token finché la transazione non è non è confermata ma resta il fatto che se tu compri il biglietto davanti al al tizio che sbiglietta riesci comunque a averlo quasi in tempo reale quindi non non ci abbiamo grossi problemi di scalabilità noi nell'utilizzo della blockchain quindi ecco abbiamo valutato versioni light nel senso che buttiamo un occhio ai vari second layer che che si stanno mettendo sopra ethereum e tutto quanto quindi comunque a quello diamo un occhio però a soluzioni di blockchain privata no ok allora poi quindi niente per decidere il giorno ci risentiamo sì poi che la questione moda della moda sì cioè nel senso mi sembra di capire che comunque ogni tanto vengono su questi questi temi che sono delle bolle praticamente poi chi ci lavora è un po' un casino forse anche scegliere l'arma per il duello io scelgo scelgo bello mi è piaciuta questa cosa sì sì giusto ci vediamo all'alba di quale giorno quindi eh ora vediamo il giorno scelgiamo il giorno sì 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 va bene e quindi a parte quindi se ci sono altre donne sulla blockchain è ora finito il tempo massimo le teniamo tutte per quest'altra questa altra cosa e a mezzogiorno a mezzogiorno ok e niente quindi allora se appunto se c'è qualcosa che magari mi sono dimenticata di toccare nella tua carriera però non cioè in tutta la tua carriera sia lavorativa accademica però penso più o meno ho toccato dappertutto abbiamo toccato tutti i punti ottimo ottimo allora niente io ti lascerei anche andare a far cena visto che oramai si sono fatti quasi due ore e allora ricordo per chi è connesso appunto vabbè punto sclamativo disco e punto sclamativo instagram per i vari canali e stasera tra più o meno un'oretta un'oretta e qualcosa sarò di nuovo in live per continuare la il tutorial di di javascript e così magari lo finiamo visto eravamo a metà e poi cos'altro direi direi niente se non anche vi ricordo che domani ci sono gli accessibility days e anche sabato quindi siete ancora in tempo volendo iscrivervi ovviamente è gratuito e se ne faccio obiettivo certificazione per chi per me era per te per me la domanda certificazione l'idea sì di stasera del corso sì anche se mi sembra di aver capito che quel 50% è riferito solo a quel blocco di javascript base e poi tutti i vari blocchettini ci sono le loro percentuali per poi prendere il certificato quindi non so se si fa in tempo eventualmente si continuerà le prossime cioè altre sere però intanto io lunedì vorrei andare avanti un po' con l'orto con l'orto planner quindi ora vediamo come poi stasera lo decidiamo insieme cioè nel senso io ormai non scelgo più da sola la gs asma for devine sì perché poi a un certo punto io ero lì proprio a leggere questo tutorial di free code camp e lo facevo mentre appunto ero in live perché a me non lo facevo da sola però alcune cose appunto leggevo rispondevo stop e quindi era un po' una cosa proprio da sembra di intrattenimento dove io parlavo di javascript e loro mi ascoltavano a parte quando sono iniziata ad andare a non capire quello che cavolo mi chiedeva perché ero proprio cotta erano tipo quasi luna e quindi a quel punto ho avuto bisogno di una mano per quello per quello dobbiamo accumulare 50k punti insistenza posso arrivare a 100k no dai dai ragazzi allora no no ah comunque io non lo so se al momento sono attivi forse sì sono comunque attive tutta la questione delle delle ricompense con i punti canale tra cui ce n'è una che ultimamente non mi starei più chiedendo non so forse non c'è più la ricompensa quella fammi vedere se c'è perché sennò poi non la dico per niente sì sì c'è ancora ok richiede un nuovo format è un po' questo al di là dell'asmer che non lo farò solo asmer anche perché il mio microfono è questo quindi direi anche volendo non è opportuno se avete sì holistic esatto se volete comunque provare cioè quantomeno proporre un nuovo format che può essere però cioè un format magari di in una serata faccio quello esempio una volta mi è stato chiesto di fare un qualcosa tipo io che dico delle news sto aspettando che ci siano delle news abbastanza interessanti ora forse col google io che ho seguito probabilmente ce ne saranno le voglio un attimo però appunto seguire tutte per poi farci magari una chiacchierata sennò è un po' che poi ci ho ripensato dopo io potevo tranquillamente fare e ho visto che l'hanno fatto di guardare il google io insieme alla mia community ci ho pensato solo dopo perché io ero nella mia vecchia community però quindi era era un po' caos quanto era bella però quella chat cavolo in quella chat era bellissima la special chat è qualcosa esatto sono testimone mannaggia ragazzi ho troppo super comunque a parte l'hasmere vabbè nel senso cose comunque competenti alle mie mansioni ecco dai a parte quella la live di cucina che già lo dico anche a te prima o poi farò live di cucina quando avrò casa finita e faremo il pane però ancora non ho una casa finita quindi non è per adesso questa cosa è stupenda sì aspetto con ansia anzi no poi abbiamo anche detto a cento sub perché per ora sono boh a tre o quattro live in diretta dal mio orto anzi no dal mio orto scusami dal mio io il mio terreno finisce con un ruscello che però è un po' infossato tra le piante così fa un po' di boschetto e lo sto ripulendo lo sto mettendo un po' in ordine potando cose a cento sub farò la live da questo sottobosco praticamente voglio le live culinarie ok sì no quelle infatti per adesso non ci sarebbe proprio spazio per me e anche una che poi tra l'altro io dovrei comunque streamare con la webcam perché non ho una gopro o cose del genere vabbè a parte questo comunque grazie a tutti i ragazzi e ragazze di averci ascoltato grazie mille di avermi dedicato a queste praticamente quasi tre ore che ormai noi siamo connessi da un po' grazie a te ti fa un piacere ovviamente quindi già accenna ai tuoi collaboratori che prima o poi saranno invitati ufficialmente ora cerchiamo cerco un attimo di capire più o meno come procedere e facciamo questa reunion di Tocat online così vi saluto tutti insieme vai fantastico e niente quindi grazie mille grazie mille ancora super interessante abbiamo affrontato un sacco di roba quindi sono molto felice molto soddisfatta e troverai questa lo dico a te lo dico anche a chi ci sta seguendo prima o poi su youtube lo troverete ovviamente tutta l'intervista probabilmente con qualche taglietto quando dico delle cazzate io quando le dici te no sì sì no è giusto e niente quindi niente ragazzi ci vediamo dopo noi e buona buona cena per chi deve farla e grazie mille e niente a più tardi grazie a te ciao a tutti grazie a te